Ciao a tutti, oggi siamo a Colombaro in una zona residenziale attaccata al parco. Vi presento un appartamento al primo piano. Venite con me. Eccoci all'interno dove troviamo la sala, la cucina separata, due balconi, disimpegno notte con due camere grandi, la stanza armadi e due bagni. Grazie a tutti. Eccoci alla fine e vi saluto dal parco. Vi ricordo inoltre che a completare l'appartamento abbiamo un garage al piano interrato. Per ulteriori informazioni contattateci i numeri qua sotto oppure veniteci a trovare i nostri uffici. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.